Un arresto per atti persecutori ad Andria e due denunce per detenzioni di armi e sostanze stupefacenti a Trani. La Polizia di Stato, nell'ambito di una vasta operazione di controllo del territorio denominata Alto Impatto, disposta dal questore di Bari Carmine Esposito, tra il 15 e il 16 settembre ha identificato 110 persone, di cui 36 con precedenti di polizia. Nel corso dell'operazione ad Andria è stato tratto in arresto un giovane classe 1997. Il ragazzo ai domiciliari, perché ritenuto responsabile di atti persecutori, non si è attenuto alle disposizioni imposte dalla misura ed è stato tradotto presso la casa circondariale di Trani, mentre a Trani sono stati denunciati in stato di libertà due ventotenni. Il primo è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni, in quanto trovato in possesso di una cartuccia 7,62 per fucile e mitragliatore. È segnalato amministrativamente per detenzione di 12 grammi di hashish, il secondo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione, un grammo e mezzo di marijuana e la somma di 250 euro suddivise in banconote di piccolo taglio provento dell'attività illecita. Mediante l'impiego di unità cinofile, pattuglie dei locali commissariati di Polizia di Stato e del reparto prevenzione e crimine Puglia settentrionale sono stati effettuati in oltre 10 posti di controllo e controllate 39 vetture. Ulteriori 392 veicoli sono stati controllati con sistema automatizzato Mercurio ed è stata elevata una sanzione per contravenzione al codice della strada e rinvenuto un veicolo risultato rubato, mentre sono state 10 le perquisizioni domiciliari e 4 gli esercizi commerciali sottoposti a controllo.